Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati. Lo vedete questo è il nuovissimo Ledger Nano X hardware wallet attualmente migliore in circolazione per praticità d'uso e soprattutto sicurezza che è ciò che uno cerca dall'acquisto di un hardware wallet chiaramente. Nel video di oggi andremo ad aprire la confezione in realtà vi sembra che io l'abbia già aperta ma l'aprirò tra poco con voi. Torniamo indietro nel tempo e riapriamo la confezione e lo inizializziamo quindi facciamo un primo utilizzo insieme aprendo la scatola lo colleghiamo per la prima volta apriamo le applicazioni Ledger Live sia su pc fisso che su mobile per cercare di capire un po come funzionano apriamo i nostri primi addresses Bitcoin ed Ethereum giusto per mostrarvi le funzionalità di base e iniziamo appunto a smanettarci un po senza andare troppo nel dettaglio. Questo vuole essere un tutorial molto superficiale di come si presenta il device per l'appunto ad un primo utilizzo se poi si renderà necessario fare dei tutorial più specifici li faremo passo dopo passo ma partendo per l'appunto da qui. Se volete acquistare il Ledger Nano X o magari anche il Ledger Nano S se volete un'alternativa un po più economica ma altrettanto valida vi lascio il mio referral link del sito della Ledger nella descrizione così che mi potete fare un piccolo piacere e girare una parte del prezzo d'acquisto una piccola parte ovviamente ma per voi non c'è nessun sovrapprezzo chiaramente quindi vi ringrazio di questo. Se apprezzate sempre i miei video di miei contenuti cortesemente lasciatemi un bel like a questo video, iscrivetevi al mio canale cliccate sulla campanellina per rimanere sempre sul pezzo e non perdervi nemmeno un mio nuovo video ricevendo la notifica, iscrivetevi al mio canale Telegram per seguire tutte le mie idee di trading e adesso andiamo a smanettare un po con questo nuovo giocattolino. Seguitemi. La confezione si presenta molto minimal vedete ha la dimensione più o meno di una mano e la mia mano vi garantisco che non è particolarmente grande raffigura sulla fronte davanti di fronte come lo volete dire il dispositivo stesso che come vedete è molto simile al suo predecessore Nano S salta subito all'occhio il display che sembra notevolmente migliorato. Abbiamo sul lato invece una scanalatura che ci mostra insomma i colori del dispositivo stesso li riprende e dietro invece abbiamo un reminder delle features principali quindi di ciò che lo contraddistingue principalmente dal suo predecessore. In primis la possibilità di gestire 100 crypto assets contemporaneamente quindi senza dover disinstallare e reinstallare applicazioni perché è dotato di una maggior quantità di memoria rispetto al Nano S ed infine la connettività Bluetooth molto interessante anche quello perché semplifica notevolmente la gestione delle transazioni in particolare in quanto non richiede la connettività via cavo e pertanto è gestibile anche da mobile il tutto tramite l'app Ledger Live che vedremo giusto una panoramica alla fine di questo video e magari ne dedicheremo uno più approfondito le prossime insomma in una delle prossime occasioni. Il chip non l'ho nominato perché è il medesimo del predecessore quindi con lo stesso livello di sicurezza che già è il massimo che si può chiedere. Ora direi che possiamo aprire la confezione beh qua sotto ci ricorda quello che c'è dentro che è assolutamente l'essenziale un hardware wallet un cavo USB basta appunto l'indispensabile molto minimal insomma ecco andiamolo ad aprire non aspettatevi ve l'ho detto un gran unboxing da me perché non sono molto pratico quindi cercherò di non fare danni. Vediamo se ce la faccio ok so che dovrei avere un taglierino o qualcosa del genere ma ve l'ho detto insomma non è che sia proprio un pro di questi video allora si apre lateralmente vedete abbiamo questa incisione a rilievo anzi a basso rilievo in realtà che ho scritto Ledger e direi eccolo un'apertura così sollevandolo. Ecco qua il nostro dispositivo molto carino spero che la luce non faccia troppi riflessi allora in realtà è un po più grande del nano S abbiamo la scritta virus in numeris qua dietro e davanti il logo Ledger vedete poi si apre così di nuovo sempre come il nano S e abbiamo la pellicolina protettiva davanti. Andiamo a cercare adesso il nostro cavetto USB che dovrebbe essere nascosto qui sotto cercando di non fare un terremoto abbiamo il nostro hello vi ricorda qualcosa questo stile a me sì ma non lo posso dire allora recovery sheet è vuoto ovviamente vedete perché il seed lo genero al momento dell'inizializzazione del device stesso. Abbiamo un getting started quindi un manualino di istruzioni che ci spiega proprio come iniziare come smuovere i primi passi con il nostro nano X in varie lingue compreso l'italiano vedete molto molto semplice ruota il coperchio premi il pulsante per accenderlo e infine scarica l'app Ledger live e poi da lì lo associ e configuri. Qua c'è qualche norma di buon utilizzo insomma le solite cose e due adesivi uno bianco e uno nero molto bellini trasparenti da appiccicare un po dove vogliamo. Eccolo qua il cavetto USB bellino anche questo di tessuto sembra un po' plasticoso però molto comodo anti annodamento diciamo così e vedete è un'interfaccia USB e questo poi si va a inserire nel nostro Ledger. Questo è quanto di altro non c'è nulla vedo qualcosa qua sotto a eccolo questo per utilizzarlo a mo' di porta chiavi vedete per anzi attaccarlo al nostro porta chiavi. Molto bello quindi si presenta molto bene e il design è veramente bello andiamo a vedere però come funziona e come inizializzarlo. Allora adesso cerchiamo di configurarlo inizializzarlo per appunto poterne fare il primo utilizzo. Qua mi sono già scaricato come vedete la mia applicazione Ledger live qua ho messo il mio dispositivo pronto ad essere connesso così come l'abbiamo tirato fuori dalla scatola. In realtà l'unica cosa che ho fatto è stata togliere la pellicola protettiva qua sopra e quindi vediamo un po' come si fa. La prima cosa da fare è aprire l'applicazione Ledger live che ci guida passo dopo passo all'inizializzazione del nostro dispositivo. Allora ci dà innanzitutto il benvenuto ovviamente get started e vediamo le opzioni che si possono scegliere. Inizializza come nuovo dispositivo quindi appunto appena acquistato oppure se lo vogliamo resettare del tutto recupera dalla recovery phrase che come vi dicevo è il seed questo di 24 parole. Quello che abbiamo a disposizione se insomma già utilizziamo un altro wallet che supporta questo standard piuttosto che se facciamo appunto un recupero di backup da un altro Ledger ad esempio ma non per forza da un Ledger come vi dicevo. Use an initialize device significa utilizza un dispositivo appena inizializzato e infine ovviamente se non abbiamo un Ledger ce ne fa comprare uno. Noi ce l'abbiamo e lo vogliamo inizializzare abbiamo un nano X e facciamo avanti eccoci qua dobbiamo collegare il dispositivo al pc per avviarlo e scegliere il nostro codice pin. Quindi la prima cosa da fare è proprio quella di aprirlo liberare vedete la porta di connessione e avviarlo ecco ovviamente al contrario così divento matto con i fili qua mi dice welcome press right button to continue. Allora qua abbiamo due pulsantoni sul nostro nano X uno destro e uno sinistro quindi l'immediatezza è rimasta esattamente come sul nano S due pulsanti. Qui ci guida in breve vedete alle prime cose da sapere e da fare quindi scarica Ledger live l'abbiamo fatto e quindi premi destro poi premi destro sinistro per navigare nei menu e nelle liste ok premi entrambi i pulsanti contemporaneamente per convalidare una selezione quindi l'ok è la pressione simultanea di entrambi i pulsanti. Andiamo avanti tieni premuti entrambi i pulsanti in qualsiasi momento per accedere al menu principale diciamo così quindi dove c'è la possibilità di spegnere il dispositivo e le altre diciamo appunto un menu principale di avvio e di spegnimento. Andiamo avanti start ledger live ok per avere assistenza durante la prima inizializzazione setup a new device ecco qua vedete siamo nel nostro direi elenco si vedete che se andiamo a destra o a sinistra possiamo scegliere cosa fare quindi setup as new device oppure recovery phrase oppure niente perché qua ci fa un reminder di tornare indietro e selezionare la voce che vogliamo. New device quindi premo entrambi i pulsanti scegli un pin code da 4 a 8 cifre quindi andiamo a scegliere il nostro pin code che anche qua devo selezionarlo chiaramente non ve lo farò vedere ve lo potete scordare che vi faccio vedere il mio pin code. ok ora ci fa scrivere la nostra recovery phrase che ci dovrebbe venire mostrata che ovviamente non vi mostro nemmeno questa eccola qua. e dopo essere diventati matti aver imparato più o meno a memoria tutte quante le parole del seed perché effettivamente lo sposto tra l'altro che non vorrei venissi inquadrato per sbaglio. ce le fa inserire una a una e ora finalmente il nostro device è pronto e quindi possiamo accedere al dashboard e installare le applicazioni finalmente vedete che possiamo utilizzare il manager in ledger live per installare le applicazioni. e infine control center che è il nostro menu principale che però ci dice che per accedere dobbiamo tenere premuti entrambi i pulsanti eccolo qua. ci fa vedere le impostazioni, power off, chiudi il control center, lo stato della batteria e blocca il device mettendo lo screensaver e infine la connettività bluetooth. adesso andiamo a vedere a cosa serve l'applicazione perché finora non l'abbiamo neanche utilizzata. come vedete qua abbiamo la schermata che ci dice passo passo che cosa fare però non è niente di più di quello che ci ha detto il device stesso. abbiamo una checklist cioè abbiamo scelto il nostro pin da soli, abbiamo salvato la nostra la nostra recovery phrase insomma c'è la segna scritta, abbiamo un backup. is your ledger device genuine? andiamo a vedere subito così vediamo il check che fa l'applicazione sul nostro device. allow ledger manager on your device allora andiamo a vedere dov'è usciamo dal control center, allow ledger manager ok. ora ci dovrebbe eccolo il nostro device è genuino perfetto andiamo avanti password lock optional allora qua ovviamente possiamo mettere una password all'applicazione quindi inseriamola non vi faccio vedere la password chiaramente. ok inserita la password avanti. bugs and analytics te lo scordi te lo scordi te lo scordi vabbè i bugs facciamo di sì avanti. your device is ready ok possiamo installare le nostre prime apps. prima di inviare ricevere crypto assets sai quello che fai in pratica ok nessun nessun consiglio legale nessun consiglio finanziario va bene lo so. il ledger per funzionare ha bisogno di installare le applicazioni sopra di esso vedete io ad esempio ho già installato bitcoin ed ethereum per risparmiarvi il il tempo appunto fisico di installazione ma vi faccio vedere subito come si fa. una volta connesso il vostro device a ledger live cioè al pc via usb e avendo aperto ledger live dalla schermata manager dell'applicazione vedete è possibile andare a installare tutte quante le applicazioni per l'appunto che altro non sono che dei client della blockchain dei light client ovviamente installabili in locale. la loro installazione ci permette di gestire quella coin sul nostro device come vi dicevo il nano x rispetto al nano s permette di gestire molte più applicazioni simultaneamente non costringendoci quindi a installare disinstallare di volta in volta ogni applicazione. quindi io ho installato bitcoin ed ethereum come vedete si possono disinstallare o installare tante altre applicazioni chiaramente la disinstallazione ad esempio dell'applicazione bitcoin non comporta la perdita dei miei bitcoin perché il mio wallet è stato creato le copie di chiavi pubblica privata sono salvate sul mio device e non vanno perdute. l'applicazione è solo un'interfaccia ecco tra applicazione cioè ledger live e il mio device fisico se volessi installare che ne so binance chain per gestire i bnb io clicco install e vedete che con molta semplicità lui fa tutto da solo vedete processing sul display del mio nano x e dopo un po vedete pochi secondi l'installazione è conclusa e mi compare vedete anche la mia binance chain qua sul mio ledger come si fa ad aggiungere infine le coin fisicamente andiamo su accounts ora che abbiamo installato l'applicazione chiaramente dobbiamo avere l'applicazione della crypto che vogliamo aggiungere perché perché ve lo dico subito se noi ad esempio andiamo a fare bitcoin continue mi chiede di aprire la bitcoin app on your device quindi se non ce l'ho installata sono al punto di partenza apriamola application is ready vediamo eccolo che la riconosce continua sincronizzazione in corso aggiungi nuovo account vedete posso andarmene ad aggiungere uno chiamandolo come voglio io che ne so bitcoin test lo seleziono add account e infine mi ha confermato che me l'ho aggiunto se voglio aggiungere qualcos'altro che ne so facciamo ethereum continua apri l'applicazione ethereum quindi andiamo a fare quit su bitcoin premendo entrambi i tasti su quit andiamo ad aprire ethereum application is ready vediamo che me la deve riconoscere ok continua adesso mi va a sincronizzare a creare l'account e poi abbiamo finito ethereum 1 va bene seleziona aggiungi fine mi bastano vedete bitcoin ethereum i miei due account qua vedete ho una dashboard che ovviamente adesso è vuota ma mi farebbe vedere una rappresentazione grafica dei miei asset nel tempo posso andarli a ordinare in modo diverso insomma seconda delle preferenze ma adesso ovviamente non avrebbe alcun senso quindi andiamo ad aggiungere delle coin come si fa clicco sull'account in questione quindi se voglio trasferire bitcoin e clicco su receive ovviamente mi fa riaprire l'applicazione bitcoin quindi quittiamo ethereum apriamo bitcoin ed eccoci che mi deve riconoscere l'applicazione avanti ok ce la facciamo continue verifica il tuo address sul device perché vedete mi fa vedere l'address qui su ledger live nel frattempo me lo fa vedere anche sul display del nostro device quindi io verifico che è lo stesso procedura di sicurezza facendo approve ed ecco che vedete il mi ha sbloccato questo address quindi posso inviare i miei fondi posso fare copia e posso inviare per l'appunto tutti i fondi che voglio qua una volta che mi arriveranno li vedrò qua nella mia dashboard e ovviamente nei dettagli dell'account vedrò tutte quante le transazioni lo stesso ovviamente vale per ethereum e infine se voglio inviare qualcosa posso andarlo a fare direttamente dall'app vedete qua ho send oltre che receive posso andare a scegliere che cosa inviare ovviamente i miei account sono vuoti l'address del destinatario l'ammontare col controvalore in dollari e infine mi fa scegliere quante fees voglio pagare quindi una volta che faccio continue me lo fa verificare anche sul device e infine invia la transazione la transazione viene firmata ovviamente sul device stesso quindi non viene mai esposta la chiave privata sul pc ed è questa ovviamente la grossa grossa sicurezza del nostro ledger quindi questo è quanto l'abc è questo abbiamo anche ovviamente l'applicazione mobile che tramite connettività bluetooth ci fa fare le stesse medesime cose che stiamo facendo ora adesso in breve andiamo a vedere come collegare anche il nostro telefono il nostro mobile tramite l'applicazione ovviamente ledger live sempre al nostro hardware wallet che stavolta non vi mostrerò più però insomma non c'è niente di particolare da farci apriamo innanzitutto l'applicazione ledger live eccoci qua welcome get started selezioniamo il nostro device nano x e qua vedete molto comodo possiamo ovviamente inizializzare fare tutto da qua oppure fare import desktop accounts il mio consiglio è di fare sempre l'inizializzazione da desktop che è più semplice diciamo così a più sotto controllo in quanto attacchiamo il nostro device e facciamo tutto da app infine vedete possiamo importare se andiamo sulle impostazioni e su accounts export accounts vedete mi genera un qr code dinamico che posso scannerizzare vedete con la fotocamera finché non carica fino al 100% ed eccoci qua fatto done qua ora possiamo tornare indietro e vedete che abbiamo importato gli accounts e le impostazioni import ed eccoci qua imposto una password ovviamente e la imposterò anche io ok posso abilitare anche il face id ok bene sono io continua ok qua mi dà i soliti reminder di sicurezza mi chiede che cosa voglio trasmettere quindi analytics no bug reports si pronti open ledger live trade safely altri disclaimer di sicurezza e vedete che qua abbiamo esattamente quello che avevamo su desktop però su mobile possiamo andare ad accoppiare il nostro nano x infine e vi faccio vedere come allora clicchiamo start nano x onboarding per accoppiare il nostro device con il nostro telefono tramite l'app è semplicemente necessario andare nella sezione manager aggiungere un nuovo device mantenendo mi raccomando il nostro ledger sbloccato e con il bluetooth acceso quindi se andiamo nel control center e vediamo la voce bluetooth disabled non va bene bisogna fare due click e attivarla cliccare poi ovviamente sul nostro device che vediamo subito percepito dal telefono abbinarlo lato telefono e lato ledger quindi vedremo il codice che poco fa avete visto sul telefono anche sul nostro device quindi possiamo confermare o negare il io lo confermo ora e ora dovrebbe darmi l'ok sull'applicazione vediamo se viene validato ok pairing successful ora posso continuare e praticamente la cosa che ho aggiunto adesso è la possibilità di verificare dal nostro hardware wallet il la validità degli address come abbiamo visto prima dal dall'applicazione da pc fisso e ovviamente la validazione delle transazioni vedete che adesso send è sbloccato prima era bloccato e soprattutto se faccio receive e clicco un address posso vedete verificare con il mio device mi fa aprire l'applicazione sul nano x ora lo faccio così vi mostro passo passo come funziona molto in breve l'ho aperta quindi adesso aspettiamo che comunichino eccoci qua verify address continua il mio address viene mostrato sia sul mio device legger nano x che sul telefono vedo che corrispondono sono contento li posso approvare sul device e infine posso utilizzarlo per eseguire transazioni vedete la sicurezza è al centro dei concetti su cui si basa il nostro legger nano x per quello che uno lo acquista per essere sicuro al massimo nella gestione dei propri crypto assets nella firma delle transazioni nella verifica degli address che spesso e volentieri è un passaggio sottovalutato e soprattutto nella praticità d'uso perché riuscire a coniugare sicurezza e semplicità d'uso non è per niente semplice quindi non ci sono passaggi ridondanti non ci sono difficoltà particolari grazie all'interfaccia davvero semplice delle applicazioni che abbiamo avuto modo di vedere se avete delle domande mi raccomando fatele perché ho intenzione di fare qualche video di approfondimento questa era davvero una presentazione molto molto blanda quindi spero di ricevere domande da voi così continueremo magari facendo una serie di tutorial più approfonditi sulle funzionalità specifiche del nostro device se ne volete acquistare uno cosa che vi consiglio soprattutto se avete un capitale di un certo spessore ecco diciamo così vi lascio il mio referral link in descrizione mi fate un grandissimo piacere se decidete di utilizzarlo perché mi girate una piccola parte del prezzo del vostro acquisto d'accordo quindi vi ringrazio se lo volete fare spero che questo video vi sia stato utile vi faccio un carissimo saluto e alla prossima